Oggi vi chiedo di immaginare che questo forte sia il mondo intero e che voi come guardie della libertà vi pugnate a difesa di esso. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel canale di studio stretch e bentornati su rom 2 total war Siamo pronti dunque a proseguire la nostra campagna assieme agli spartani ora che abbiamo conquistato il Vesontium ora che la nostra influenza si espande a tutta la Germania Minor dobbiamo fare in modo di pressare questo nostro avversario i nervi eliminandoli dalla faccia della terra e garantendoci in questo modo come ben sapete un nord barbaro sotto il nostro controllo che ci permetterà di dedicarci poi alla grande guerra dei Balcani per attuare questo piano di espansione rapidissimo dobbiamo però dedicarci alla ricostruzione del Vesontium così facendo infatti potremo emanare poi degli editti che ci permetteranno di avanzare con i nostri eserciti e di non arrestare così la nostra macchina da guerra spartana davanti a nulla dunque non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a ricostruire questa grande città dei nervi strappata facilmente lo scorso gameplay la prima struttura che andremo a creare sarà un tempio di Zeus l'abbiamo visto poco spesso e la sua caratteristica è proprio il fatto di dare più sei all'influenza culturale ellenica che come ben potete notare da questa percentuale non è molto alto in questi territori che sono sempre stati di possesso delle barbari genti mettiamo dunque ad accodare questo bellissimo tempio una cosa su cui c'è poco da pensare invece è il fatto che questa città debba essere una polis così facendo tutte le mura diventeranno di marmo e smetteranno di essere un semplice terrapieno conservare un'impronta produttiva anche per questa grande città mi sembra una cosa importantissima e dunque il produttore di anfore fa il caso nostro le anfore sono ovunque e vengono usate per conservare di tutto 100 la ricchezza derivata dall'attività manifatturiera più 5 per cento la ricchezza derivata dalle attività agricole e 10 per cento la ricchezza derivata da tutto il commercio dato che nella vicina bibracte è già presente una caserma degli opliti a nulla serve un campo dei mercenari che ci darebbe meno 10 in pane ma possiamo per sicurezza creare un campo degli schermagliatori che permetterà di aumentare il livello di esperienza di alcune unità e sbloccherà l'arruolamento degli schermagliatori a cavallo velocissimi ed efficaci come ben sapete mentre invece per quanto riguarda quest'altra struttura militare l'andremo a smantellare scusate il gioco di parole nel prossimo turno ci occuperemo anche di essa il secondo processo per velocizzare la ripresa di queste cittadine sarà quello di andare a togliere l'editto panem et circenses nella provincia cisalpina e lo andremo invece a ripristinare proprio nella germania minor e infatti notate come questi verdi corriandoli segnalano che l'editto è stato settato correttamente ora procediamo alla visione dei nostri agenti per poi dedicarci all'avanzata degli eserciti non dobbiamo dare fiato al nemico e dunque possibilità di riprendersi notiamo come la nostra spia e uodia a questo punto possa recarsi più a nord ma prima di fare ciò direi di colpire nuovamente il volo di in modo tale da ridurre le possibilità di un attacco nei confronti di bagacum da parte di questo maledetto barbaro flatuchas che abbiamo visto anche negli scorsi gameplay dunque fornitura di veleno al 63 per cento per noi e vediamo se la nostra spia riuscirà a colpire nel modo giusto ed è esattamente quello che è successo livellando di conseguenza l'esercito del nemico è veramente fiaccato e ridotto a pochissime unità come testimoniato dagli 8 su 80 nobili con lancia del generale un attributo particolare come ben ricorderete è lavoratrice del bordello livello 3 ci darà più 6 per cento la probabilità di successo di un raggiro più 15 per cento la probabilità di esito positivo per questa azione e una cosa particolare più 3 all'ordine pubblico e vi lascio immaginare il motivo a questo punto è il turno di edona e allo stesso modo attaccheremo alle spalle i maledetti corrigan spudorati spartanimei sapete bene che tutte queste azioni sono molto utili perché dobbiamo fare in modo di avere sul campo di battaglia per quanto edona non riesca nel suo tentativo stavo dicendo ad avere meno nemici contro di noi ora che siamo a gerasimo notiamo come sorvolando la manica gli ceni abbiano respinto i briganti e questo ci fa piacere in quanto essi sono molto più bellicosi degli ceni stessi è giunto il momento di passare i nostri grandi eserciti trovandoci in questo momento a distros il generale ciro per adesso deve sostare ma andrà a reclutare ulteriori unità che saranno due opliti per i eci in diversi mi avete consigliato di ricreare alcune strutture militari e sono d'accordo con voi ma ricordiamoci anche che abbiamo dovuto ripristinare il pane e soprattutto le entrate per il nostro impero ed è grazie a queste manovre che adesso possiamo espanderci nuovamente a questo proposito dovremo cercare poi di attuare un potenziamento proprio delle città al confine dal punto di vista militare così che siano utili per la nostra grande marcia contro gli ardiè in futuro ma non pensiamo troppo avanti una volta reclutato con ciro proseguiremo nella nostra visione degli eserciti pronti alla guerra e all'avanzata inesorabile ora ci troviamo nuovamente nei pressi di bagacum e notiamo come l'eroe assegnato a quello che fu l'esercito di poli per conte possa livellare daremo eroi di guerra a livello 3 che come notate da molti bonus positivi tra cui ricchezza 30 per cento dall'avventurarsi invece il tranquillo omnasone ai confini con casurgis volge il suo sguardo e notiamo che gli insubri pur avendo un solo territorio riescono a mantenere ben quattro eserciti ma notiamo anche che la città sia al 55 per cento di influenza greca e questo dipende dai nostri confini la cosa che però più ci interessa è l'avanzata di gelo che per adesso dovrà stoppare possibili attacchi degli eserciti di lup furdum come avrete sicuramente capito e dunque anche per questo 108 avanti cristo tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto la provincia belgica è quella da avere il deficit più alto di ordine pubblico ma ricordiamoci che sta crescendo di nove punti a turno e a questo proposito faremo di questa città il simbolo della nostra potenza sugli stati assoggettati creando un mercante di schiavi esso ci permetterà di avere 50 dal commercio locale e più 25 per cento dalla ricchezza generata dagli schiavi riducendo le problematiche legate ad essi in tutto l'impero inoltre creeremo sempre per il costo di mille talenti d'oro un serbatoio d'acqua che porterà l'ordine pubblico a salire così come la ricchezza derivata dall'agricoltura ed ecco come in pochissimi turni anche questa grande cittadina sarà a fiore all'occhiello del nostro impero spartano adesso che i soldi sono finiti effettivamente null'altro possiamo se non passare il turno assieme e pregare ares che guidi le nostre lance nei punti giusti dunque uomini miei prepariamoci al 107 avanti cristo ed ecco che i nervi attaccano il nostro generale gelo al confine con lup furdum il loro numero di oltre 3.300 unità mentre il nostro si limita a 1.300 siamo all'interno di un forte come potete notare l'avversario non possiede macchine d'assedio se non fosse per questo onagro celtico che se eliminato dalla nostra prode cavalleria una sola unità potrebbe permetterci di ribaltare la situazione con una delle battaglie più epiche mai viste se dovessimo perdere il nemico comunque non invaderà l'insubri e cercheremo una ritirata strategica per prepararci al meglio io però oggi vi chiedo uomini di scendere in campo con me per urlare al cielo che siamo ancora spartani e non a caso chiamati i figli e discendenti di eracle cerchiamo di portarci a casa questa grande vittoria impensabile se non altro cerchiamo di fiaccare il più grande asserragliamento di nemici cappeggiati da questi tre generali barbari in questo forte affrontiamo le orde di barbari che a centinaia cercheranno di prevaricare sulle nostre picche sulle nostre vite oggi vi chiedo di immaginare che questo forte sia il mondo intero e che voi come guardie della libertà vi poniate a difesa di esso non fateli passare fratelli miei oggi moriremo ma saremo immortali finché parola d'uomo verrà pronunciata su questa bella terra i corvi banchettino sui pazzi che proveranno a piegarci che vengano avanti iniziamo dunque questa difesa in questo forte dove siamo asserragliati come fratelli pronti ad accogliere le orde di centinaia di barbari attenzione perché come avrete notato la cavalleria è stata dislocata all'esterno in modo tale da essere molto più libera nei movimenti per colpire così i tiratori dei barbari che intanto cominciano ad accalcarsi proprio su questa piana enorme dove molti di essi sicuramente troveranno la morte cerchiamo di passare la cavalleria esattamente nella posizione più sicura per essa infatti la mole dei barbari la maggioranza arriverà dal fianco destro dove saremo pronti qui con le picche schierate cerchiamo di sistemare le nostre baliste greche mentre nella parte avanzata del nostro schieramento abbiamo i nostri fromboglieri loti che in questo istante appiccheranno l'incendio alle cave di zolfo che come ben sapete non hanno solo utilità di danneggiare il barbaro con le fiamme ma evitano adesso di avere una visibilità completa che sommata questa pioggia incessante lo renderà parzialmente cieco e così si troverà subito in posizione di svantaggio rispetto alle nostre picche rispetto alle nostre lame mentre parliamo cerchiamo sempre di dare una posizione corretta a queste baliste che non ne vogliono sapere di entrare in posizione mentre invece quella in posizione più a sinistra hanno già il tiro libero sulla prima orda di barbari frontali mentre quella laterale sta arrivando in questo istante ad impattare contro le nostre lance ed eccoli qui che vengono avanti maledetti troveranno file di picchieri spartani pronti ad accoglierli guardate con che foga si accalca il nemico sulle prime file mentre le barricate a difesa dell'entrata a nord vengono sfondate e anche questi maledetti cercano di averla meglio ma cosa possono davanti a un tale asserragliamento la cosa che però impaurisce il mio cuore è il fatto che non riesca ancora a vedere gli onagri celtici queste macchine di morte che potrebbero abbattere senza difficoltà le nostre mura ed eccoli qua nella parte più esterna a destra dello schieramento nemico un'altra cosa che crea terrore nel mio cuore ma deve tenere saldo il vostro è il fatto che il nemico abbia veramente centinaia e centinaia di uomini di valenti barbari che hanno un conto in sospeso con i nostri spartani vogliono infatti toglierci la vita ma non hanno capito che saremo noi ad averla meglio mentre un fuoco incessante del barbaro stesso piove come una pioggia aggiuntiva furente sopra i nostri scudi cerchiamo di dislocare il nostro grande generale gelo nel fronte destro il nostro schieramento mentre il barbaro cerca di attaccarci da tutte le parti questa è la carica che io vi chiedo una carica sotto la pioggia mentre i corvi incominciano ad accalcarsi sanno che stasera ci sarà da mangiare carne umana noi ora attaccheremo assieme tutti i tiratori che si trovano davanti a noi e che stanno facendo man bassa della nostra fanteria che cerca nel frattempo di eliminare gli avversari cavalieri siate sicuri della vostra carica e non permettete fuga questo nemico infame sistemiamo nel frattempo i nostri fromboglieri allo stesso modo andremo a creare dei gruppi aggiuntivi di unità che si accalchino là dove il barbaro sta cercando di avere la meglio sui nostri uomini è uno scontro a 360 gradi mentre notiamo che la cavalleria avversaria sta cercando di attaccare la nostra hanno capito che può essere una spina nel fianco e ci mandano contro non solo la cavalleria ma come potete notare anche un asserragliamento di fanteria pesante incominciamo a muovere alcuni gruppi dei nostri spartani fidati da quello che era l'asserragliamento a nord a quello che è l'asserragliamento ad ovest cerchiamo di portarci a spasso nel frattempo la cavalleria avversaria tenendola sempre a tiro delle nostre torrette delle sentinelle in questo modo fiaccheremo il loro animo e soprattutto faremo man bassa dei loro uomini in quanto come ben sapete le frecce infuocate causano danni eclatanti a questo punto non ci rimane che mantenere sempre la posizione questo è il fronte meno affollato mentre invece quest'altro è davvero ricco e farcito qui la pugna è veramente feroce mi sembra di vedere ares stesso scendere sul campo notiamo cavalieri fanteria che cercano di avanzare ma cosa possono contro un muro di spartani il vostro muro che non permette loro di avanzare di un solo centimetro nel frattempo cerchiamo di fare fuoco con le nostre baliste sui loro onagri celtici così che capiscano che l'accoglienza dei greci non si limita semplicemente a quattro picche ma abbiamo anche noi le nostre macchine di morte nel frattempo la cavalleria nemica ci raggiunge allora lo scontro l'arma bianca è assolutamente necessario cavalleria leggera gallica mercenaria conosceranno anch'essi le lame di sparta a questo punto sembra che la situazione si stia risolvendo per quanto riguarda il fronte a sinistra del nostro forte mentre continuiamo a far avanzare le nostre unità non credo che questi siano tutti i barbari presenti sul campo mentre cerchiamo la carica assoluta sui tiratori e allo stesso tempo affrontiamo la cavalleria avversaria che ormai è ridotta a un pugno di mosche ricordatevi cavalieri miei che per quanto possiamo caricare i tiratori se essi sono tanti con una sola incoccata di una freccia o di un dardo potrebbero abbatterci ma quello che conta è essere feroci e violenti e questo è quello che sta succedendo oggi sul campo la nostra ferocia è implacabile perché implacabile è il nostro credo e soprattutto la nostra volontà di conquistare il mondo intero era comprensibile che la nostra cavalleria non potesse continuare all'infinito a colpire i loro tiratori infatti questo è successo degli eroi oggi sono stati sanciti hanno eliminato diversi gruppi di tiratori ne arriveranno all'orizzonte tanti altri cerchiamo di far rientrare le nostre baliste che precedentemente si erano spostati mentre notate e sentite come gli onagri celtici cerchino di sfondare le nostre barricate ma quello che più mi piace vedere è questi standardi che diventano bianchi come bianche sono le facce di paura di tutti coloro che affrontano noi spartani qui sul passo qui nei pressi di loop furdum si danno la fuga i primi gruppi ma sono certo ripeto che ne manchino tanti altri che debbano entrare infatti là sulla destra altri standardi arrivano non smettono di crearsi sembra una giostra senza fine ma noi non abbiamo paura cerchiamo di portare all'esterno i nostri tiratori per avere così un fianco libero e poter attaccare con essi la fanteria da più lati frontalmente con la nostra e lateralmente proprio con questi tiratori nel frattempo notate come le torrette facciano strage del nemico e la fratellanza di lanceri si scaglia adesso contro il nostro muro di opliti e il nostro muro di picchieri spartani i nostri tiratori stanno in questo istante arrivando attenzione però abbiamo fatto un errore gravissimo che costerà probabilmente la vita a tutti questi nostri tiratori infatti sorge da questo mare dei nervi da questo mare di tiratori una cavalleria che spazza via scusate il gioco di parole completamente i nostri poveri fromboglieri loti un errore che forse ci costerà caro ma chi non ne commette soprattutto in una battaglia come questa non potevamo certamente pensare di vincere con poche perdite facciamo avanzare anche i nostri peltasti perieci riconoscibili facilmente dalla loro lambda bianca su fondo nero e allo stesso modo senza lasciare completamente sguarnito il fronte a nord cerchiamo di spostare altre fanteria mentre notate che viene giù una parte del forte e allora dovremo andare subito a tamponare questa possibile entrata saremo dei mattoni impenetrabili per il nemico anche se adesso le cose non si mettono per nulla bene e notate come il nostro generale gelo stia cercando il tutto per tutto mettendosi in prima fila e cercando di mantenere saldi i cuori di tutti voi spartani una carica della cavalleria direttamente sui nostri uomini che va ad essere macellata in quanto tra i vari scudi spuntano ancora le picche di diversi gruppi di picchieri la cosa che adesso più terrorizza il mio cuore è il fatto che si stanno creando dei gruppi senza fine di tiratori e come ben sapete hanno un vantaggio assoluto sui nostri picchieri che non hanno praticamente alcun tipo di difesa una volta che sono schierati cerchiamo dunque di far avanzare i nostri opliti per i eci e spartani che creino così una difesa aggiuntiva con i loro larghi scudi uomini io vi chiedo di non lasciare la posizione noi qui oggi dobbiamo ribadire che gli spartani non si fermano mai davanti a nulla mentre con le nostre ultime baliste cerchiamo di usare i colpi rimanenti nel migliore dei modi cercando così di atterrare il nemico i tiratori stessi mentre l'onagro tira giù un'altra parte del nostro forte notate ormai come quel maledetto onagro dalla potenza disumana sta riducendo il nostro forte a legna che presto sarà putrida sotto questa pioggia copiosa tutti saranno disposti a questo punto sul lato ovest mentre cerchiamo un aggiramento anche per quanto riguarda la zona posteriore dobbiamo mettere fuori uso quell'onagro se infatti un colpo dovesse arrivare direttamente nel centro del nostro schieramento io credo che nulla potremo per quanto già eroici siamo stati fino a questo punto i dardi sono incessanti e notiamo come il nostro generale sia stato ferito e il suo cuore veramente indomito stia tremando lo facciamo arretrare per trovare conforto sono rimasti veramente pochissime unità di spartani reali che lo sorreggono e lo scortano dietro il generale inverno ha dato tutto adesso però dobbiamo cercare di attaccare il nemico cercare di pusharlo perché infatti non possiamo permetterci che essi continuino a tirarci addosso tutto quello che hanno vi sconsiglio fortemente di applicare una strategia di questo genere perché è esattamente l'ultima strategia che vi rimane così come a noi rimane solo questa per vincere questa importante battaglia ricordiamoci saranno morti centinaia di barbari ma noi adesso con le picchie spianate cerchiamo di portarli all'inferno una volta per tutte mentre come avete notato abbiamo dislocato anche sulla parte sinistra della nostra visuale un gruppo di spartani che sta andando a prendere quei maledetti onagri che devono smettere di attaccarci devono smettere di buttare morte e distruzione sul nostro grande schieramento ormai si tratta di una corsa senza confini la cosa più importante in questi casi è cercare di distribuire in modo corretto tutte le nostre unità in modo tale che una volta che i giovani celti in questo caso ovvero i tiratori avversari si trovino all'arma bianca non abbiano alcun tipo di speranza contro i nostri spartani contro tutti voi che conficcate la lama fredda nella loro carne viva siamo ancora in parità e la cosa che mi spaventa è che abbiamo ancora molti tiratori fermi che lanciano i loro dardi su di noi e questa è una cosa inconcepibile cerchiamo dunque continuamente di distribuire le nostre forze mentre notiamo che un gruppo di picchieri finalmente ha raggiunto questi maledetti dell'onagro celtico e vanno giù come se fossero pecore al macello tutte le nostre unità sono ora dispiegate sul campo e ricordatevi che non è necessario abbattere tutti i nemici in questo caso ma dobbiamo cercare di creare in loro la paura tipica che si insinua nell'animo di questi maledetti arcieri e tiratori quando vedono che le loro retroguardie sono sguarnite notate però che altri nostri fratelli cadono ancora sul campo per mano proprio di questi vigliacchi che applicano alla lettera una schermaglia infinita dunque scappano alla nostra vista cerchiamo di spaventarli leoni miei che siano gazzelle in questa savana sterminate e soprattutto ribadiamo in questo istante che i nervi non saranno che una cosa di passaggio per il nostro popolo non sono quelli che vogliamo noi vogliamo però il loro potere noi vogliamo però i loro territori e mentre stiamo dicendo questo notiamo come l'indicatore di forza si stia muovendo velocemente verso il nostro vantaggio e dunque uomini miei io qui sancisco assieme a voi una vittoria che credo sia una delle più epiche che abbiamo vissuto assieme i nostri pronostici si sono verificati e avverati in pieno abbiamo vinto a caro prezzo ma potete notare quanti siano periti sulle nostre picche 1085 uomini per questo gruppo di eroici picchieri una battaglia che verrà ricordata nei secoli e che ci darà libero accesso a tutti i territori dei nervi uomini non posso dirvi altro se non siete degli eroi abbiamo perso tre unità del nostro prode esercito di gelo ma il suo grande scudo non permette all'avversario di avanzare che invece retrocede perdendo quasi tutte le sue armate uccideremo i prigionieri in quanto la struttura per vendere gli schiavi non è ancora ultimata e dunque questa è la scelta migliore da seguire e il nemico si ritira nella foschia i rugi dopo averci proposto un trattato commerciale ora rilanciano con un trattato di non aggressione che viene valutato moderato dunque sarà accettato così come viene proposto in quanto la confederazione germanica e questa piccola fazione potranno essere ottimi alleati nella guerra contro gli ardiei come ben sapete accettiamo dunque e brindiamo a questo grande accordo gli schiavi non possono far altro che attaccare nuovamente vibracte a questo punto potremo risolverla per un 87 per cento di probabilità questi maledetti riposano nei campi elisi ora che la loro vita è stata divelta dalle vostre lame uccidiamo anche questo quasi i prigionieri siamo dunque arrivati al 107 avanti cristo che si apre con 11.700 talenti d'oro nelle nostre casse maldazio che paghiamo per aver ridotto praticamente a zero le difese di lup furdum è il fatto che il generale gelo muore e viene sostituito da ciro da non confondersi con l'altro nostro generale omonimo che cappeggia i giganti a questo punto possiamo sferrare il contrattacco e sono certo che ne approfitteremo per vendicare il nome del grande generale inverno che ha dato la vita su questo passo per permettere al nostro popolo di splendere nell'antichità avanziamo dunque verso la città di lup furdum e per quanto l'indicatore di forza ci dia svantaggiati in quanto il nemico possiede ancora diverse unità specialmente l'esercito di guarnigione rimarremo in posizione continuando a mantenere questo assedio essenziale che causerà vittime non solo nell'avversario ma anche nei nostri uomini se dovessero creare una sortita valuteremo la situazione e se necessario arretreremo così da escludere la guarnigione stessa da un possibile assalto fuori dal campo di battaglia ora non ci rimane che fare una panoramica assieme di tutti gli altri eserciti così che lasceremo il segno anche in questo importante autunno per quanto riguarda ciro di istros il suo esercito è completo e dovrà prepararsi per quella che è la manovra che porrà fine al regno degli insubri ed è per questo motivo che lo facciamo uscire dalla cittadina stessa e lo metteremo in modalità fortificazione avvicinandolo così a casurgis a questo punto possiamo pensare anche di avanzare col nostro nasone perché non credo che tu li furdum abbia una grande guarnigione per quanto riguarda bagacum dunque gli uccisori di ciclopi possiamo avanzare col nostro grande endimio contro il volo di katubodua ridotto come ben sapete a uno straccio di soldati prima di fare ciò però possiamo investire nuovamente su un sabotaggio militare e ricordiamoci che questo esercito è stato il più colpito da questo punto di vista la nostra uodia non fallisce e i soldati che appartengono a questo generale barbaro si contano su due mani manderemo nei prossimi turni la nostra uodia ad esplorare cosa si annida nella nebbia di guerra di tulifurdum mentre col nostro generale endimio andiamo a sferrare un attacco diretto a questo avversario che subisce per via dell'attacco ha portato dalla stessa nostra spia un'imboscata le percentuali di vittoria sono scontate dunque non valgono il nostro tempo e lo xifos si conficca nel ventre nemico che si accascia a terra qui su questo grande fiume uccideremo dunque i prigionieri e anche il nostro endimio livella di conseguenza come notate gli effetti dell'editto precedentemente emanato ci permettono di avanzare in quanto la crescita viene garantita nonostante l'assenza del generale all'interno della città dunque flevum il nostro prossimo obiettivo endimio passa il fiume e si avvia verso quelli che sono i paesi bassi odierni dove lo aspettano i fratelli di is dunque l'invasione spartana del nord avanza implacabile e abbiamo ben tre eserciti che potranno adesso invadere tulifurdum marciare fino a labu e ricollegarsi così al loop furdum uomini miei sebbene avete capito siamo veramente a pochi passi da quella che sarà la risoluzione finale di questa nostra campagna al nord ed è chiaro che qualche brivido sorge spontaneo pensando a quando partimmo dalla piccola sparta con ambizioni di conquista mondiale il tempo a mia disposizione è finito spero che questo gameplay vi sia piaciuto procederemo dunque con risanare tutte le nostre conquiste nei prossimi episodi che usciranno dopo l'intermezzo di csgo che sarà il prossimo video sul canale se questa serie ragazzi vi piace lasciate un like per farmelo capire per ribadirmi il concetto che siete dalla mia parte ricordandovi che siamo qui su questa bella terra per farla diventare di un solo colore quello della lambda spartana ciao a tutti ragazzi ciao in questa facciata puoi trovare gli ultimi due video che ho fatto e basterà cliccare su di essi per raggiungerli se il video che appena visto ti è piaciuto lascia un mi piace lascia un commento e se hai voglia iscriviti al canale per rimanere sempre la giornata alla prossima